Arriva una nuova foto dal set di Spider-Man New Home E a quanto pare si tratta di una foto con Andrew Garfield e Tom Holland Allora, la fonte da cui arriva questa immagine è Spider-Fun L'Iker che ormai ci sta veramente rilasciando un sacco di rumor, di informazioni molto importanti Da lui infatti arriva il video con Andrew Garfield sul set Questa foto non lo so, è molto sfocata, si vede abbastanza maluccio Quindi si fa un po' di fatica a capire di cosa effettivamente possa trattarsi Però sempre l'Iker ci ha detto che dovrebbe trattarsi di Tom Holland insieme a Andrew Garfield L'immagine li ritrae su un palazzo mentre guardano l'orizzonte, non so cosa stiano guardando Probabilmente una scena in cui stanno scambiando due chiacchiere Una scena dove magari si stanno conoscendo Probabilmente insomma le dinamiche possono essere tante in questa immagine Però io intanto come sempre ve la riporto e poi lascio a voi un po' le supposizioni So che molti di voi vorrebbero vedere qualcosa su Tobey Maguire Perché effettivamente, cavolo, sta uscendo di tutto con Andrew Garfield ma nulla su Tobey Maguire Cosa che in realtà all'inizio anno era un po' il contrario Mi ricordo che all'inizio di quest'anno uscivano un sacco di notizie su Tobey E non usciva niente su Garfield, adesso è tutto il contrario Però ripeto, prima o poi qualcosa su Tobey dovrebbe arrivare E intanto però è interessante vedere che piano piano stanno uscendo tante cose da set Tante news, tante informazioni piano piano le stanno tirando fuori E quindi insomma è interessante vedere sempre più immagini, più video Anzi speriamo di vedere più video perché sono la cosa più interessante che si possa vedere E nel frattempo però ragazzi vi beccate queste immagini Con un bel property of Sony Pictures Sinceramente nonostante ormai mi fido di questo leak E non so quanto possa essere reale questa immagine Perché è veramente strasfocata Poi questo property of Sony Pictures grosso al centro Non lo so, non lo so Tanto non manca ancora molto per scoprire la verità Stiamo in questo momento un po' temporeggiando Stiamo un po' curiosando tra leak e rumor Prima che il tutto poi verrà svelato dal secondo trailer Che dovrebbe arrivare tra l'altro proprio a inizio novembre Confermato da Daniel RPK Quindi prima di Eternas probabilmente vedremo il trailer Io dico tra il 25 ottobre e il primo novembre abbiamo il trailer di Nove Home Il secondo trailer Sì sono abbastanza sicuro di questo Quindi ci aspetta ancora un mesettino di attesa per il trailer Però intanto abbiamo queste robette su cui Insomma fantastica era un pochettino Detto questo ragazzi fatemi sapere cosa ne pensate Ditemi un po' secondo voi questa scena Cosa vuol dire In che momento ci troviamo Se Andrew e Tom si stanno conoscendo Se stanno per combattere Insomma fatemi sapere la vostra Iscrivetevi al canale Seguitevi su Twitch Dove anche il video aggiorno I social Tutte le descrizioni ragazzi Gruppo Telegram Blah 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 Ragazzi vi saluto E cercherò prima o poi di portarvi Questo contenuto legato a Tobey Maguire Che penso arriverà ragazzi Prima o poi qualcosa su Tobey arriva Ve lo prometto Ci vediamo al prossimo video ragazzi E niente vi saluto E al prossimo Ciao E al prossimo video